la sconfitta contro la prima della classe era da mettere in preventivo però la squadra la partita se l'è giocata ha dimostrato attaccamento alla maglia e questo è un piccolo passo in avanti sì noi viviamo un momento molto difficile più dal punto di vista psicologico che tecnico tattico ci troviamo in una situazione drammatica figlio un po' dei tanti problemi che abbiamo avuto i ragazzi si impegnano lavorano in settimana danno tutto però poi probabilmente molte cose non riescono ma ti ripeto più da un punto di vista mentale che da un punto di vista fisico tattico l'impegno lo mettono mettono voglia attaccamento però le cose non ci riescono è un momento difficile dobbiamo superare insieme probabilmente bisogna lavorare più sulla testa che sulle gambe perché il cuore lo abbiamo visto francamente oggi però adesso c'è questo ultimo posto in classifica che non deve demoralizzare i ragazzi no no hai detto bene più un problema di testa che di gambe perché non possiamo rimproverare ragazze l'impegno vedi tifosi come ci incitano comunque purtroppo il mister e lo staff devono lavorare appunto più sulla testa cercare di fare capire ragazzi che nell'arco di un campionato momenti difficili ce ne sono hanno le capacità e la forza per poterli superare il prossimo turno c'è il derby a capurso c'è in nepali una salvezza si è chiaro che noi facciamo un campionato dilettantistico i rapporti sono importanti ed è giusto che vengano mantenuti prima di ogni cosa poi in campo ce la giocheremo sia noi che loro abbiamo bisogno dei punti faremo di tutto per prenderli come loro faranno però fuori dal campo dobbiamo sempre restare perché lo sport è questo mister arriva una sconfitta come valutarla alla luce credo di tante tanti aspetti positivi visti si credo che oggi era una partita difficile il melilli non ha mai perso quest'anno quindi qualcosa voleva dire sapevamo della difficoltà della partita sicuramente lo stato attuale ci fa commettere più errori del dovuto in alcune in alcune circostanze in alcune situazioni di gioco non ci fa giocare tranquilli e paghiamo queste cose alla fine i ragazzi davvero ci hanno messo tutto oggi evidentemente non è bastato dobbiamo continuare a lavorare l'unica cosa da poter fare nel secondo tempo ci sono state tante difficoltà soprattutto mentali sui gol subiti loro immediatamente dopo dobbiamo necessariamente reagire ora abbiamo tre gare secondo me alla nostra portata in cui possiamo possiamo far bene è vero che delle sei sconfitte tante sono nate da situazioni un po difficili che avevamo già in partenza sicuramente stiamo recuperando tutti gli uomini quindi dobbiamo continuare a lavorare bene con tutti e sperando di svoltare finalmente una buona prestazione la tua due gol che non sono bastati si sapeva una partita difficile ti chiedo qual è stato il momento più complicato di questa partita forse il 6 a 3 sul mostro massimo sporso sì non lo so che che passa con la squadra penso che abbiamo lavorato bene questa settimana ma manca qualcosa perché sempre qualcun sbaglio individual siamo morti noi per facere un gol dobbiamo cercare la porta troppo volta sì e loro llegano una volta e non fanno un gol non vedo un altro modo che continuare a lavorare ma siamo in un momento molto complicato e io individualmente è il momento più brutto della mia vita futbolistica perché io sono 20 anni e mai abbia giocato in e la due e mai abbia fatto il destenso a bajo è difficile ma penso che questo è buono per me come persona e come calcetista e io lo so che il casano è una società più molto forte qua in italia è più brutto per la società ma come te detto prima è l'unico modo di cambiare questo è lavorando è una partita molto complicata con il capurso sempre un derbi e hai un plus di difficoltà anche mentalmente per noi e per loro loro stanno in la misma situazione che noi ma penso che dobbiamo portare a casano i tre punti e solo i tre punti